Sono passati quattro mesi, quattro mesi di lavoro in cui abbiamo avuto degli alti e abbiamo avuto dei bassi però la costante è stata la grande voglia di lavorare per provare a migliorarsi sapendo che, come ho detto poco fa, per migliorarsi bisogna anche concedersi degli errori e noi ne abbiamo commessi però siamo consapevoli del fatto che lo stiamo facendo come avevamo detto di volerlo fare, con grande voglia, grande entusiasmo, grande passione grande senso del dovere di rappresentare una città importante e di volerlo fare al massimo delle nostre possibilità che più avanti scopriremo dove ci porteranno e proveremo, come ho detto già, a raggiungere meglio di quello che avremo raggiunto Il fatto di aver fatto fatica con determinati tipi di squadre sicuramente è stato un segnale per noi ma noi sappiamo che in questo campionato ci sono delle squadre che potenzialmente possono forse esserci superiori però non ci siamo prefissati livelli di classifica siamo stati bravi a raggiungere tanti punti ma che, come sappiamo bene, non potranno bastare per nessun tipo di obiettivo quindi abbiamo voglia di continuare ad accumularli e volendolo fare sempre provando a dare il massimo in ogni gara che abbiamo di fronte e ora sappiamo che abbiamo di fronte l'ennesima partita difficile di questo campionato contro una squadra che è sicuramente ottimamente organizzata, che ha delle ottime qualità ma pensiamo di poter avere anche noi dalla parte nostra delle qualità per riuscire a fare una grandissima partita Per noi quella di domenica è stata una bella gara la nostra bravura deve essere quella di riuscire a cavalcare questo entusiasmo e non farlo sfociare in euforia, come dico spesso ai ragazzi avere la serenità di poter affrontare gara dopo gara le difficoltà che ci vengono davanti ma non sentirsi tranquilli tutte queste cose perché? Perché noi abbiamo voglia di andare avanti perché sappiamo che partecipiamo a un campionato difficilissimo ma abbiamo le qualità e stiamo dimostrando le qualità per poter competere con tutti gli avversari ovviamente delle volte siamo caduti, abbiamo sbagliato ma la cosa positiva che riconosco a questo gruppo è che sempre o perlomeno quasi ha dato la sensazione di volerci provare dal primo all'ultimo secondo quindi per noi sarà importante avere grandissimo equilibrio ma l'equilibrio lo dico all'interno di una gara perché è importante sapere affrontare le difficoltà poi sapere essere protagonisti quando le situazioni lo richiedono ma l'equilibrio è anche di gara in gara quindi non deve essere una vittoria o una sconfitta a farci sentire forti o deboli dobbiamo sapere che stiamo lavorando da quattro mesi insieme che non sono tantissimi ma non sono neanche pochi e che vogliamo fare bene, vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo cercando di limare i difetti e esaltare i nostri pregi non so di preciso cosa faranno loro però conosciamo le loro qualità e sappiamo che sono di primissimo ordine per noi è importante fare una partita come ho detto prima una partita di livello perché per riuscire a fare quello che vogliamo fare cioè andare avanti nel punteggio dobbiamo essere in grado di fare una partita di livello perché affrontiamo un avversario di grande livello quindi non so cosa presenteranno loro perché sono stati in grado di sapere essere molto offensivi sono stati in grado di sapersi difendere bene perché credo che siano una delle migliori difese del campionato e credo che hanno anche degli elementi molto importanti nella fase offensiva quindi sicuramente affrontiamo un avversario forte però lo vogliamo fare consapevole del fatto che abbiamo le qualità per poter fare una grande partita Sappiamo di aver lasciato per strada dei punti contro squadre che sicuramente all'inizio del campionato hanno dimostrato di saper fare qualcosa in più di noi però per noi è importante riuscire a confrontarci con questo tipo di squadre soprattutto in un campionato come questo in cui ci sono sì, come abbiamo detto anche all'inizio e continuiamo a dire, delle squadre che sono retrocesse che hanno qualcosa in più altre squadre che hanno fatto qualcosa di diverso in fase di mercato noi abbiamo voglia di crescere, di costruirci e di confrontarci con questi esami difficili perché sono gli esami difficili quelli che ti fanno salire noi domani avremo un esame difficilissimo lo sappiamo però abbiamo voglia con tanta umiltà di poterlo affrontare con tutte le nostre caratteristiche sperando poi alla fine di poter essere protagonisti grazie